bentornati nell'orto in telechia per la precisione nella serra in telechia questo è il set di oggi cosa andiamo a fare cosa andiamo a fare prima di tutto a recuperare un po di minerali acquei nella contemplazione di quanto sia preziosa questa risorsa e ne riempiamo questa ciotola qui abbiamo propoli autoprodotta ma ma quasi finita buttiamo un po così a caso visto che ce n'era troppo poca da non poterla prendere con la pompetta e metà si è riversata qui brutta brutta cosa fortunatamente ne abbiamo ancora molta ma questo non è certo una scusa per accettare gli sprechi anzi io ho un po di tea tree oil ecco tea tree oil ancora acquistato ancora un po di disonore per il tea tree oil mentre grande gloria per il propoli autoprodotto su base di propoli grezza donata dagli amici andrea e daniela chi per caso non ha visto il video sappiate che ho fatto anche un video sulla preparazione della propoli e dunque gocce di tea tree oil e fave che sono queste fave queste fave sono dell'amico carmine caro carmine questo è finalmente il giorno in cui le tue fave vanno a mollo belle violacee fave di albero bello questa tecnica questo mollo in presemina è volta a risvegliare è volta a risvegliare la semente che ben secca deve uscire dalla dormienza alle tue fave caro carmine aggiungo un po delle mie le tue fave non sono fave qualsiasi ma nemmeno queste sono fave qualsiasi racconterò spenderò due parole su queste fave che aggiungo a far compagnia alle tue fave partendo dal presupposto che io ricordo quanto ci hai raccontato su queste su queste tue fave che ci hai appena donato che stiamo appena mettendo in ammollo ricordo la gloriosità del racconto di delle piante che superano i due metri di altezza con ottime produzioni e che è di per sé qualche cosa di molto gloriosa se ben ricordo tu hai coltivato le fave in un ambiente controllato in un ambiente ben ben protetto come è giusto che si faccia quando si fa la prima moltiplicazione di una semente che è appena arrivato che che è nuova che è fragile perché non si è ancora potuta adattare al proprio terreno eccetera eccetera bene oggi sto preparandomi a mettere assieme la tua fava che in questo caso è già stata riprodotta da te quindi ha già un anno di adattamento però per quanto riguarda il tuo orto non ancora per quanto riguarda il mio sto mettendo insieme a queste altre fave che hanno un trascorso simile nel senso che questo è un mix di ciò che è ciò che è saltato fuori questo è il frutto di ciò che è stato fuori dalla coltivazione di un mix multivarietale che rappresenta le migliori varietà le più interessanti varietà che ci sono accapitate tra le mani qui all'orto entelechia anche noi il primissimo anno lo abbiamo fatto con cura facendo sì che le piante si trovassero in un ambiente controllato ben protetto al fine di garantire al meglio la loro crescita proteggendoli da tutti i tipi di avversità ebbene l'anno successivo che è stato il 2020 no che è stato il 2021 come magari qualcuno ha potuto vedere nei primi capitoli del dell'orto vlog super tranquillo c'è proprio un capitolo apposta dedicato alla semina delle fave consociate alle patate ecco quel barattolone di fave così belle così gloriose così pompose erano proprio il frutto della massima dedizione praticata l'anno precedente come siamo andati a coltivarle durante il 2021 ebbene siamo andati a coltivare in quella iguola che avete visto la cui preparazione avete visto all'inizio di dei capitoli del 2021 ebbene è stato un anno di totale aridocoltura in una stagione agricola di clima arido quindi una doppia razione di aridità abbiamo scelto di non intervenire un po per pigrizia un po per volontà di due fave viola sono presentiate all'appello molto molto sotto pezzatura rispetto all'anno scorso una fava mi è caduta non che non me ne sia accorto solo che è abbastanza butteratina irrinunciabile in tal senso comunque la morale della favola qual è? dopo il primo anno di carezzina sulla testa queste fave le abbiamo coltivate con meno carezzina sulla testa la graticola della vita quindi abbiamo raccolto molte meno fave di quelle che abbiamo seminato ed è un grave disonore perché normalmente in agricoltura si considera che l'ideale sarebbe raccogliere più di quello che si semina quindi abbiamo raccolto meno fave più brutte uno schifo però apparentemente perché concretamente queste fave poche brutte sono il frutto delle piante che l'anno scorso hanno saputo resistere alla siccità hanno saputo adattarsi se di un vaso così ampio così voluminoso così pomposo e promettente come quello che c'era solo così poche si sono salvate vuol dire che è la creme della creme dell'agricoltura non so se mi spiego ora non sono tutte qui ce ne sono alcune anche nell'altra serra che mi accingerò ben presto ad andare a recuperare per raggiungere a questo ammollo ma perché perché faccio questo video oltre che per il piacere di aggiornarci oltre che per il piacere di farci compagnia faccio questo video per ricordare l'importanza della gestione dei semi in funzione al contesto se è un seme che è appena arrivato con poche unità come il caso della fava donataci da Carmine ecco può avere molto senso valorizzare ad esempio un cassone piuttosto che qualche vaso in un ambiente protetto come potrebbe essere una serra fredda o una veranda o un balcone ecco una volta infatti l'anno scorso erano qui cioè l'anno prima dell'anno scorso erano qui dopo aver fatto una bella moltiplicazione l'abbiamo spostata nell'orto per poter metterle alla prova quindi primo anno grande situazione amniotica curata tutta l'energia possibile per poter far riprodurre il seme già dal secondo anno se si ha abbastanza seme si può incominciare a selezionarlo ora di fronte a questa situazione considerando che un po' ne aggiungeremo ma comunque abbiamo una sensibile riduzione e considerando che ci stiamo andando ad aggiungere quella di albero bello ecco in questo caso vorrei rifare un altro anno di situazione amniotica per poter permettere al gene che abbiamo selezionato resiliente di rimoltiplicarsi con un po' di tranquillità per tornare poi all'anno successivo a fare un altro anno di graticola della vita non so se rendo l'idea quindi tac 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 un ritmo sistole diastole giorno notte inspira espira cos'è il ritmo anche della selezione genetica del miglioramento genetico può essere applicato alle cipolle può essere applicato alle lattughe può essere applicato a tutto assolutamente a tutto per oggi è tutto per oggi è tutto o meglio per adesso perché magari poi farò anche un altro video in cui preparerò il terreno in cui seminare le favi ti auguro buon attimo presente ti voglio bene grazie a tutti grazie a tutti